Prima vittoria del nuovo anno per il San Nicolò che supera per 3-1 al Bonolis una recanatese efficace solo per 45 minuti. Al cospetto dei marchigiani i biancazzurri offrono una prestazione concreta conquistando meritatamente i tre punti. Parte forte la squadra di Massimo Epifani. Al settimo Moretti è una ghiotta occasione per sbloccare il risultato ma spara incredibilmente alto tutto solo dinanzi a Cartechini. Passano 60 secondi e Stivaletta mira l'angolino sinistro colpendo però il palo esterno. Al decimo scatta il contropiede dei biancazzurri che 3-1 mancano però l'acuto permettendo alla difesa marchigiana di salvarsi. La gara è divertente con tanti copovolgimenti di fronte. Al quarto d'ora il San Nicolò rischia il clamoroso autogoll con una deviazione fortuita di Dorazio respinta distinto da Digifico. Al sedicesimo arriva così il meritato vantaggio abruzzese grazie a Bartolini che deve solo accompagnare il pallone in rete ad un metro dalla porta dopo un cross perfetto di chiacchiarelli. La gioia del vantaggio biancazzurro dura però poco perché al diciottesimo è Dorazio a ristabilire la parità. Tutto da rifare per la formazione terramana che accusa il colpo non riuscendo poi a rendersi pericolosa fino al termine del primo tempo quando Santoni cade in area chiedendo inutilmente il rigore a De Santis di Lecce che lascia però proseguire. Nella ripresa al primo i tifosi di casa gridano al gol ma sulla spettacolare conclusione di chiacchiarelli e la traversa a dire no al San Nicolò. La risposta della formazione leopardiana è affidata al quarto a Traini che però non crea grossi problemi a Digifico. Chiacchiarelli appare davvero ispirato e al settimo su calcio da fermo si inventa una traiettoria magnifica che non lascia scampo a Cartechini. Sulle 2 a 1 al quattordicesimo il Castelfidardo resta in dieci per l'espulsione per doppia munizione di Glebocchi e così al sedicesimo arriva il Triss di Bartolini che al volo mette alle spalle del portiere ospite per la sua doppietta personale. Gara quasi in ghiaccio anche perché al ventiseiesimo i giallorossi restano in nove per il rosso diretto sventolato a Scartozzi per gioco falloso. Una decisione, quella dell'arbitro pugliese, piuttosto severa, poi più nulla eccezione fatta per una punizione di Garcia a fil di palo. Per il San Nicolò una vittoria importante che consente ai biancazzurri di portarsi a quota 30 subito alle spalle delle big del torneo. Per i marchigiani un K.O. che non cambia di molto, una classifica ancora tranquilla. Epifani, prima vittoria del 2015, tre punti meritati contro una Recanatese che ha giocato discretamente bene nel primo tempo, meno nella ripresa quando voi avete messo a sicuro il risultato. Ma sì, hai detto cose giuste perché credo che nel primo tempo abbiamo creato tante occasioni da gol, però abbiamo anche concesso qualcosino su dei nostri errori. Tra il primo e il secondo tempo abbiamo parlato, volevo più determinazione da parte dei miei e l'abbiamo fatto. Nel secondo tempo penso che abbiamo fatto tutto quello che dobbiamo fare e abbiamo portato a casa una vittoria che è importantissima. Credo che questa squadra ha fatto 35-36 gol, credo che a oggi sono tanti gol. Purtroppo siamo mancati nei momenti determinanti quando dobbiamo portare a casa del risultato. Credo che stiamo crescendo sotto questo aspetto e oggi l'abbiamo dimostrato quanto una squadra che è abituata a lottare per salvarsi, quindi era una squadra difficile da incontrare. Magrini, cosa non ha funzionato oggi nella Rega Natesa? Dicei nulla, direi poco. No, diciamo non siamo stati quelli delle quattro gare che ho giocato io, una squadra dove ho visto soprattutto nella fase difensiva molto bene. Oggi invece siamo andati in netta difficoltà, ma forse per, oltre che del merito nostro c'è stato anche il merito degli avversari, che avevo notato già dalle partite che avevo visionato che erano molto pericolose in fase offensiva, creavano tante situazioni pericolose e oggi l'hanno ridimostrato. Però, nonostante tutto, al primo tempo eravamo stati bravi subito a rimediare all'errore, al gol loro, parigiando. Poi al secondo tempo potevamo essere un pochino più attenti, invece abbiamo ripreso il 2-1 e lì è chiusa la partita. Grazie a tutti.